buongiorno allora arriviamo al dunque vi faccio questo video per farvi capire semplicemente che io ieri ho fatto un test ho fatto un test perché volevo vedere veramente in quanti di voi arrivavano a percepire a capire che io stessi recitando e sapete il perché perché sapevo che quei video andavano virali in quella maniera e sapete perché l'ho fatto non perché sia pazza perché non lo sono perché comunque io sono preparata a ricevere i messaggi terribili che hanno scritto dappertutto invece l'ho fatto semplicemente perché voglio combattere questa battaglia sulle persone più deboli sulle persone che non sono preparate e vi ricordo vincent che si suicidò in live